Siamo prontissimi, siamo qua, siamo qua sul Monte della Colma perché stiamo facendo i primi sopralluoghi per realizzare questo film che sarà pronto entro la fine dell'anno ma partiremo poi da settembre in tutte le scuole tramite l'Agiscuola a presentare questo film Don Vandro tra astuzia e devozione Dobbiamo ringraziare tutti gli abitanti di Belfort che ci hanno aiutato a cercare, a trovare testimonianze e lui è uno di quelli e noi qua ci troviamo dove? Noi siamo nel rifugio degli scout creato da Don Vandro negli anni 70 questa qua è una struttura che è stato il nucleo del campo scout usato principalmente dal Milano 1, molti affezionati tutti gli anni venivano qua a passare un certo periodo facendo campo sia maschile che femminile e quindi è andato avanti questa cosa piano piano si è costruito, si è allargato questa cosa ora questa qua è rifugio in caso di maltempo e di problemi eccetera ma tenete presente che loro gli scout erano sparsi tutto intorno a questa zona nei vari prati quelli che una volta erano prati con le loro tende e avevano organizzato proprio i campi qui intorno e questa è già una testimonianza noi siamo venuti sul posto per vedere un po' la location perché grazie è un'altra cosa guarda loro non me è stato utilizzato anche sempre sotto i patrocini di Don Vandro per agiamatori come base per i collegamenti a lunga distanza addirittura negli anni 60 e la targa che c'è qui ricorda questo fatto sono stati i antisegnati questi radiamatori per fare un collegamento di telemedicina addirittura hanno tirato fuori un elettrocardiogramma di uno scalatore che era addirittura sul Monte Rosa nel momento della scalata e stiamo parlando degli anni 60 e quindi ancora adesso dei radiamatori ogni tanto ci riuniamo ci riuniamo qua per fare collegamenti anche a nome di Don Vandro ma per quello che dico tra devozione e astuzia perché era astuto, era intelligente e il nostro regista ci ha portato qua Enzo Francesco Ferlaro sapete che lui è un regista acclamato perché ha fatto tantissimi film e tanti documentari ma quello di successo è la staffetta che è stato presentato al Festival di Venezia sì 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 è stato presentato al Festival di Venezia ne ho fatto anche altri, quello che è andato a cani a cani sì e quindi senti Enzo ma secondo te il film può piacere anche ai giovani perché noi questo lo facciamo soprattutto per far conoscere ai ragazzi e alle nuove generazioni un prete un po' particolare sì penso di sì perché è un prete che attira molto con le sue imprese e poi un prete radiamatore stupisce molto perché noi siamo abituati a pensare al prete, alla persona invece si lasciava andare, mi interessa, mi interessa molto un Don Camillo Piemontese direi di sì il nostro fotografo, il nostro fotografo anche lui molto conosciuto perché ha fatto tantissime con l'estero soprattutto, sì è in Stati Uniti e adesso sono qua per aiutare a realizzare questo film e questo è importantissimo perché la fotografia fa tantissimo soprattutto ti mette proprio in luce il punto dove devi realizzare questo poi abbiamo ancora Ettore, Ettore Ramondini che è il mio braccio destro lui fa tutto, fa da macchinista a aggiustatore di roba è un factoto una volta e questa è la prima volta tu invece che partecipi a un film sì finalmente sei riuscito a tirarmi dentro però vedi la cosa bella è che tutte queste cose affascino perché anche lui vedo che nota, che guarda, che fotografa perché sono cose che se tu non ti ci dedichi a questo non ci arriverai mai ma soprattutto la figura di Don Vandro che ci ha affascinato tutti in mano a mano che andiamo avanti alla riscoperta della sua vita dei fatti salienti, delle curiosità, degli aneddoti ci affascina tutti perché è un personaggio di cui non c'è più traccia quasi sapone da altri identi ha passato 50 anni dalla nostra vita noi dobbiamo ringraziare anche, diciamolo la verità ma non è una, diciamo, una leccata ma è importante dire la sindaca di Belforti che si è data da fare in tutti i modi per riuscire a trovare testimonianze sì 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 sì, Nadia sicuramente lei, a parte che partecipi alla vita parrucchiale quindi benvenga questa cosa è soprattutto molto affezionata a Belforti quindi le testimonianze sono uscite, ci sono allora adesso noi invece vi rivolgiamo a voi nel senso che siccome le riprese inizieranno a febbraio, vero capo inizieranno a fine febbraio chi volesse partecipare ancora a questo film lo può fare telefonando al numero, lo vedete sotto pancia 393 171 0800 ve lo ripeto 393 171 0800 ci sentiremo telefonicamente e poi faremo un provino e poi potete partecipare al film vi ricordo che il film è autogestito e quindi come dicono i genovesi abbiamo bisogno di palanche quindi qualsiasi persona che volesse collaborare anche il privato anche con poco ma il poco si conta e noi abbiamo bisogno di questo per riuscire a realizzare un film che poi possa girare la nostra Italia in tutte le scuole e esserne orgoglioso di quello che abbiamo realizzato benvengano mi raccomando siamo qua ci aspettiamo aiutateci allora poi vi aggiorneremo a mano a mano che noi realizzeremo queste riprese e con voi ci vediamo i prossimi tre minuti ciao ragazzuoli grazie grazie a loro vediamoci da fare perché qui fa freddo eh sì è vero che fa freddo grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi